Scherzando è andato a prendere in giro a Krasic e dargli un colpetto sulla nuca questo per far capire anche a un momento perché è felice per la Roma ma anche scherzoso tra due giocatori nonostante il gol subito da Krasic appunto e nessuno si era accorto della macchina che si poteva fare gol da Lillieri ma è rimasto subito anche a Ranieri Roma che in questo secondo tempo è passata al 4-2-3-1 con Terossi e Simplicio davanti alla difesa e poi ci sono per rotta centrale poi si inizia a sinistra e Tatei a destra alle spalle di Marco Pol danno la vittoria a Ballarò un gol spettacolare da parte di Tatei in rovesciata completamente ferma la difesa della Juve si dispera Volucci, si dispera Storari ma la difesa della Juve deve recitare il mio appunto però sottolineiamo anche magari adesso abbiamo una occasione di vedere il replay la provezza tecnica di questo giocatore più inquadrato bellissimo, completamente ferma vedi si gira praticamente probabilmente anche imparabile per Storari che chiama il fuorigioco non c'è assolutamente fuorigioco sorpresa la difesa della Juventus e noi andiamo a Carlo Paris a Carlo Paris per sentire come è stato commentato un gol così bello e si c'è da pensare e da decidere tra i due gol quale è il più difficile e quale è il più bello ma intanto la festa già si vive nella panchina della Roma ovviamente è tra quei pochi tifosi della Roma che sono qui allo stadio panchina della Juventus Gigi Del Neri immobile Francesco Marino scuote la testa immobile dietro di lui Alberto Aguilani in piedi è stata una serata decisamente particolare per lui gli occhi al cielo chissà quali sono i suoi pensieri anche da ex non molla la Juventus mostrando comunque il grande carattere quello che ha evidenziato